Sono contento di poter rivolgere gli auguri di una santa e buona Pasqua a tutti i telespettatori e amici di TV Padre Pio. Lo faccio come ho fatto con la mia diocesi, cercando di consegnare un piccolo vocabolario. Ho fatto di dieci parole che a mio giudizio sono le parole della Pasqua che, se vissute bene, costituiscono un linguaggio che ci rende persone di Pasqua. Ve le dico velocemente per non prendere troppo tempo. Le prime quattro le ho raccolte durante la Messa Crismale e ho detto che sono parole che necessitano di essere trasfigurate se cambiando diventano veramente cristiane. E sono queste quattro. Innanzitutto carriera, per noi cristiani deve diventare servizio. L'altra è la parola avversario. Non esistono. Vediamo negli altri dei volti rivolti verso di noi e che ci ricordano e ci rammentano quello di Cristo. C'è la parola nemico, bruttissima. Deve essere trasfigurata, come dice Gesù nel Vangelo del discorso della montagna, in preghiera, rendendoci in questo modo veramente solidali tra di noi. Oppure la parola forestiero non è così. Siamo tutti forestieri e in cammino verso la patria comune che è la Gerusalemme Celeste. Dobbiamo trasfigurare questa parola in fratelli e sorelle. E così ne abbiamo già quattro. Ma durante la celebrazione della Cena Domini del Giovedì Santo ne ho trovate altre tre che mi sembrano regalateci veramente dal Signore. E sono parole da coltivare perché nella misura in cui le coltiviamo porteranno frutti. La prima è comunione. Il Signore ci raccoglie attorno alla sua mensa per fare unità. La seconda è servizio. Si abbassa a lavarci i piedi, si fa nostro servo e addirittura schiavo e ci invita ad un comportamento simile tra di noi. E la terza è adorazione. Nell'orto degli ulivi si mette di fronte al Padre ripetendo con forza non la mia ma la tua volontà sia fatta. Questa è la vera adorazione. Queste tre parole unite alle prime quattro portano già a sette. Durante la passione del Signore del Venerdì Santo ho scoperto che ci possono aggiungere altre due parole che ricordano la nostra fisicità, il nostro essere corpo e spirito, le nostre persone. E sono due parole del nostro fisico che vanno curate perché siano salvezza. La prima è la parola cuore. Il cuore è il germe dell'amore, il luogo dove la croce si pianta e porta frutti, frutti di solidarietà e di pace. La seconda parola è braccia, è la parte aperta della croce, è il braccio orizzontale ma le nostre braccia si allargano per poter essere accoglienza e abbraccio con tutti e con ognuno per costruire una vera fratellanza e amicizia universale nel nome del nostro Creatore. Andiamo così a nove parole, ne manca una che è nel giorno di oggi, il giorno del sabato santo, direi una parola che va curata ed è la parola silenzio. Il sostare nel silenzio di fronte alla croce ormai vuota di Cristo al suo sepolcro non è un atteggiamento di vuoto, è piuttosto il fare lo spazio necessario per l'ascolto autentico della sua parola e per l'ascolto degli altri e del creato di tutto ciò che ci parla e vuole entrare in relazione autentica con noi e costituirci in unità. Un ascolto che diventa accoglienza, che diventa profondo terreno di sviluppo e di pace. Ecco se accogliamo e facciamo nostre queste dieci parole, quattro da trasfigurare, tre da coltivare, due da custodire, da curare e l'ultima da custodire, allora veramente credo saremo nelle condizioni di fare del nostro linguaggio e della nostra vita un vocabolario pasquale di essere tutti persone di Pasqua che vivono da risorti. A tutti allora e ad ognuno buona Pasqua e che sia una Pasqua che ci rende risorti e ci fa portatori di pace in quanto tutti figli di Dio.